Vogliamo qualificare Rovigo come città universitaria. È questo l'obiettivo che si prefigge il nuovo Consiglio di Amministrazione del CUR, Consorzio Università di Rovigo, nel suo mandato. Ieri, nella splendida cornice di Palazzo Angeli, la presentazione ufficiale dei cinque componenti del CDA, presieduto da Diego Crivellari e composto da Enrico Buoso, entrambi nominati dal Comune di Rovigo, Paolo Avezzù, Maria Votta Gravina, nominata dalla provincia di Rovigo, e la riconfermata Sofia Nicoli, della Camera di Commercio. In questo mandato cercheremo di inserirci dentro il lavoro fatto negli ultimi anni dal professor Venturini al professor Tovo, ha spiegato Crivellari, consolidando la presenza dell'Università a Rovigo, e questo, di certo, con il supporto fondamentale della Fondazione Cariparo. Le scelte che faremo per il futuro dovranno sempre più affiancare l'offerta dei due Atenei, l'Università di Ferrara e quella di Padova, e la speranza è quella di accompagnare il CUR alla normalità del post-Covid. Crivellari ha sottolineato poi la congiuntura astrale favorevole costituita dall'Aggiunta Comunale di Rovigo, fatta di accademici, che riconosce l'importanza del CUR per Rovigo e per il Polesine. Il CUR dovrà diventare promotore di conoscenza di tutto il territorio, l'orgoglio del Polesine, ha concluso il neopresidente. Una presenza da sostenere e valorizzare. La promessa è di impegnarci per una più forte presenza del CUR e proiettarlo verso l'esterno, affinché diventi interlocutore forte per iniziative e discussioni pubbliche sulla città e moltiplicatore di iniziative e dialogo col territorio.